Salve amici, mi fa piacere rincontrarvi dopo tanto tempo. L'esercizio che vi propongo oggi è un esercizio di Qigong per muovere l'energia attraverso i meridiani, quindi per aiutare questo circolo, questo flusso energetico, quindi sostenere l'energia nel corpo, un'energia di, chiamiamola salute e guarigione, abbinata al respiro. L'esercizio è abbastanza semplice e va ripetuto due volte. La prima volta molto lineare e la seconda con una piccola aggiunta di movimento che vedremo in seguito. Quindi la posizione di base è con i due piedi paralleli, le ginocchia leggermente flesse e il bacino leggermente in avanti per addrizzare la colonna. La respirazione è abbinata al movimento, quindi inspiro portando su il C, l'energia, con le mani, con questo gesto. Inspiro arrivo al cuore, porto le mani in avanti, espirando e allungo e streccio le braccia. Dopodiché, inspirando, allargo le braccia ed espirando ruoto le braccia in avanti portando le palme verso l'alto. Streccio le braccia, stiro, inspiro e porto le braccia lateralmente. Espirando, le porto verso l'alto e spingo il C verso l'alto, strecciando forte e forte le braccia, alcuni secondi e poi prendo l'energia sferica e la introduco nella testa, nel viso, nella gola, nel tronco, nell'addome. Fin gioco. E questo è l'esercizio completo. La seconda fase dell'esercizio è identica con un movimento in più che ora vediamo. Di nuovo inspiro sollevando il C, lo porto all'altezza del chakra del cuore ed espirando porto le mani in avanti, stirando forte le braccia, streccio, 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 poi inspiro, apro le braccia e porto le braccia indietro, di nuovo in avanti, espirando, con le palme verso l'alto, streccio e stiro, forte, forte, inspiro, aprendo le braccia. A questo punto, per quattro volte, spingo le mani in avanti in questo modo, due, tre e quattro, e quattro volte indietro, uno, due, tre e quattro. Espirando vado su, spingo di nuovo l'energia su, 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 streccio tutto il corpo, afferro la sfera di energia e la introduco nella testa, nel volto, collo, torace, addome e giù. A questo punto, chiudo il circuito energetico facendo il gesto del macrocosmo. Inspiro ed espiro, sfiorando il corpo. La conclusione ideale di questo esercizio è la manipolazione dell'energia che abbiamo raccolto. Si compone di nove spostamenti tra le due palme delle mani, come se avessimo una sfera in mano. e uno, e due, e tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, e nove. E questa è la conclusione. Alla prossima!